La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo L'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale vediamo i titoli di apertura si parla della manovra ieri la conferenza stampa del Premier Conte con i vicepremier Di Maio e Salvini e il Ministro Tria vediamo il titolo manovra, cala il deficit le correzioni di Palazzo Chigi in tre anni giù all'1,8% e disoccupazione al 7% fondo unico da 20 miliardi per le misure del Movimento 5 Stelle e della Lega e caccia alle coperture l'analisi il comandamento Di Maio proibite le spese immorali andiamo avanti la fotonotizia i nodi dell'immigrazione odio razziale 12 anni a Traini e il colle frena sul DL sicurezza restiamo al centro pagina il ritorno del colera mamma e figlio ricoverati a Napoli erano rientrati dal Bangladesh nel Casertano i medici dell'Occutugno non c'è rischio epidemia per il commento ma adesso niente allarmismi i giorni del 73 ricordo lontano andiamo di taglio alto invece si parla di calcio il Napoli ieri gara di Champions con la vittoria all'ultimo respiro per il Napoli che batte i vice campioni d'Europa Liverpool per 1 a 0 il titolo il ruggito di Lorenzo e poi gli articoli correlati notte da Champions il Napoli batte il Liverpool con un gol di insignia e vola in testa al girone malore per Keita che è stato poi ricoverato in ospedale lo scacco matto di Ancelotti questo ancora l'altro titolo relativo proprio alla vittoria del Napoli ieri contro il Liverpool in Champions League e poi le pagelle per il mattino Allan e Koulibaly giganti Ospina che sorpresa Allan e Koulibaly giganteggiano al San Paolo ma la vera sorpresa alla fine si rivela Ospina che con le sue uscite providenziali blinda la porta del Napoli e poi il caso sempre legato al calcio ma non al calcio giocato si parla di Cristiano Ronaldo CR7 ora spunto un video sulle accuse di stupro brutta storia riemerge dal passato di Cristiano Ronaldo i fatti risalgono al 2009 con l'accusa mossa da una ragazza americana 34enne pesantissima di stupro e spunta anche il video cambiamo argomento andiamo nei box in alto la sicurezza niente seggiolino bimba morta in auto genitori condannati e poi le anticipazioni totale poesie inedite con gli sberleffi a Picasso e alla Merlin e poi l'olio di Assisi in questi giorni tantissimi sindaci della Campania anche del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro sono ad Assisi perché la regione Campania è la regione che questa mattina consegnerà l'olio a San Francesco vediamo il titolo 10.000 fedeli dalla Campania San Francesco grande esempio andiamo di taglio basso e focus del mattino dagli ingegneri ai saldatori lavoro c'è invece lavoratori no questa è la prima pagina del mattino nazionale andiamo avanti andiamo sul mattino di Salerno sempre prima pagina vediamo i titoli redditi in caduta cure proibite per 20.000 anziani impennata di scusate impennata di rinunce alle prestazioni mediche la punta dell'iceberg ora la regione agisca i dati shock del dossier dei sindacati sono circa 20.000 gli anziani salernitani che necessitano di assistenza sanitaria e che hanno però difficoltà a curarsi per problemi di reddito e poi la storia i giudici spostano la vergine fra Giggino insorge mi ritiro nella fotonotizia il restyling urbanistica si accelera sui tempi entro dicembre nuovi cantieri il comune aggiorna il piano di interventi il completamento urbanistico della grande Salerno prevede la partenza di nuove cantieri strategici e tutto entro il mese di dicembre stiamo accelerando al massimo dice l'assessore all'urbanistica De Maio centropagina Sarno SOS degli scienziati alto rischio salute l'inchiesta della procura di Nocera sul fiume dei veleni ricerche e studi specialistici tenuti per anni nei cassetti le indagini PC in riparazione spunta l'archivio porno dei minorenni indagato un ventenne poi il processo violenze sessuali sui nipotini condannato lo zio a sette anni di spalla lo scenario De Luca lega quel feeling che viene da lontano e poi l'iniziativa appello alla Salerno degli intellettuali diritti violati si torni alla lotta questi titoli della prima pagina del mattino di Salerno continuiamo con le prime pagine andiamo ora sulle cronache vediamo come apre questa mattina le cronache il titolo malati in barella il caos nel pronto soccorso Margaret cittadino giovane affetto di emorragia cerebrale non ricoverato in reparto per due giorni resta irrisolto il problema delle aggressioni a medici e infermieri e poi la pizza pascalina ignorata dalle pizzerie di Salerno è stata ideata dall'istituto nazionale tumori pascale presente solo in cinque locali della provincia continuiamo eboli presi in asso e cane e il suo genero Antonio D'Amato arrestato Cosimo Maiale fratello del boss da temuto camorrista ladro di slot machine ancora Salerno vive da tre anni in auto e non vede il figlio Vincenzo Casaburi racconta la sua storia di dolori e dispiaceri e lancia l'appello alle istituzioni sempre Salerno centro storico in lutto è morto bocciuolo mentre a Nocera andiamo di spalla ha torquato l'appoggio esterno di Forza Italia andiamo avanti di taglio basso a Liberti trascina in aula Antonetti la DIA chiamata a testimoniare contro il dirigente interdittivo antimafia alle ditte funebi processo civile per il sovrintendente a cava dei tirreni barbuti la giustizia non blocchi la politica pericoloso chiedere le dimissioni di Servalli mentre a Rovella torniamo di spalla superenalotto al bar Tortora vinti 41 mila euro questa è la prima pagina di Le Cronache la prima pagina invece di la città vediamo che parla invece di abusi edilizie delle sanatorie vediamo sanatorie che mancano tuttora in Campania anche se sono tanti secondo la città che ricorrono proprio alla sanatoria per cercare di mettere a posto un abuso edilizio vediamo cemento fuori legge né ruspe né condono storia all'italiana dell'abusivismo edilizio in Campania flop delle demolizioni 71 mila istanze di sanatoria nel Salernitano l'ultimo tentativo di varare una normativa del governatore De Luca fermato però poi dal governo centropagina la fotonotizia l'abbiamo visto anche dalle altre pagine dei quotidiani andiamo a Cava dei Tirreni la statua contesa i frati litigano sulla Madonna e poi anche la città parla della partecipazione di numerosi sindaci anche del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro come detto che ieri e oggi erano ad assisi per le celebrazioni in onore di San Francesco lo abbiamo detto la regione Campania la regione chiamata quest'anno a consegnare l'olio a San Francesco c'è anche quindi una delegazione della diocesi di Tegiano Policastro con in capo il vescovo Monsignor Antonio De Luca e vediamo il titolo invece per la città oggi la Campania donna l'olio a San Francesco le celebrazioni ad assisi andiamo di spalla Scafati minore fugge dalla comunità pesta la mamma Battipaglia condannate lo zio pedofilo a sette anni di carcere e poi invece ad Eboli ancora cronaca il racket di maiale io fratello di e finisce in cella di fondo il processo distruggono auto il PM duro con i vandali caos traffico per i lavori sulla tre i camionisti protestano mentre a Pisciotta frana di Rizzico appalto dopo trent'anni andiamo di taglio basso Feltri a Feltra un fuoriclasse una quasi biografia nel racconto della vita di giornalista e poi la mostra lucida artista con la fantasia creativa di Isa Staino di taglio alto invece la beffa della città sporca Netturbini vanno al bar sospesi e poi graziati Netturbini anziché lavorare se ne vanno al bar scatta il procedimento disciplinare vengono sospesi per dieci giorni ma l'ufficio del personale riduce la sanzione ad un giorno la beffa nella città sporca questa è la prima pagina della città andiamo ora nelle pagine interne del mattino per trattare le notizie di primo piano quelle dedicate appunto alla manovra lo abbiamo detto ieri il premier Giuseppe Conte insieme ai vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio insieme al ministro Giovanni Tria erano in conferenza stampa per presentare la nota al DEF vediamo il titolo i conti pubblici l'accordo sul deficit in tre anni giù all'1,8% caccia a 20 miliardi di vertice a Palazzo Chigi per le stime del DEF Tria una manovra di qualità leghe Movimento 5 Stelle annunciano un fondo unico per le misure sfida alle risorse il testo definitivo con le previsioni inviato alle camere e ai vertici dell'Unione ma per Bruxelles conta lo sforamento 2019 Savona il condono turiamoci il naso la commissione aspetta di conoscere tutte le variabili in gioco il ministro a Strasburgo vede gli eurodeputati andiamo avanti restiamo sul tema andiamo nella pagina successiva vediamo il titolo perché i due vice premier Di Maio e Salvini annunciano di andare al voto nel caso in cui l'Unione Europea blocchi la manovra vediamo Di Maio e Salvini fatto il possibile se arriva la bocciatura dell'Unione Europea si va al voto i due leader pronti allo scontro ma nel Movimento 5 Stelle c'è allarme se lo spread va a 400 non reggiamo moral season del colle guerra di cifre tra leghe e Movimento 5 Stelle sui fondi per reddito e riforma Fornero stiamo mostrando coraggio soprattutto per il 2019 questa è la frase di Giuseppe Conte in conferenza stampa insolitamente sobria decisamente breve domande vietate senza soliti proclami e la fotografia delle ultime ore della trattativa andiamo avanti di taglio basso Confindustria si può sforare se c'è crescita quota 100 non alzi il costo dei contributi previsioni a ribasso nel rapporto CSC di autunno il PIL quest'anno chiuderà più 1,1 e nel 2019 ad appena 0,9 chiudiamo questa pagina andiamo avanti andiamo sulla pagina successiva quella dedicata ad una parte delle manovre vediamo in pensione a 62 anni e senza penalizzazioni stop all'aumento dell'età è pronta la riforma della Fornero 38 anni di contributi per poter uscire dal 2019 le domande salvata l'ape sociale e anche opzione donna nessun limite nemmeno per i contributi figurativi duri non usciranno 400.000 persone il prossimo anno continuiamo la scelta reddito più basso a chi possiede un appartamento che dal lavoro a coloro che incassano l'aiuto otterrà una decontribuzione di pari importo i soldi potranno essere spesi solo con una tessera in negozi italiani limiti per acquisto sigarette e alcol per quanto riguarda il reddito di cittadinanza alcune delle direttive del reddito vediamo flat tax al 15% per le partite IVA assunzione verso un piano straordinario per le forze dell'ordine e poi per il fisco la pace fiscale sulle cartelle fino a 500.000 euro e con queste misure con parte delle misure della manovra del governo Conte ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria torneremo tra pochissimo per continuare a sfogliare i nostri quotidiani restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo alle pagine interne del mattino di Salerno vediamo per quanto riguarda il tema legato alla sanità lo abbiamo visto anche dalla prima pagina i redditi che non consentono a molti anziani di poter ricorrere alle cure questo infatti è l'argomento di primo piano per il mattino di Salerno vediamo il titolo redditi in caduta cure proibite per 20.000 anziani il dossier shock dei sindacati è solo la punta dell'iceberg impennata dopo il passaggio al pagamento delle prestazioni sono circa 20.000 agli anziani salernitani che necessitano di assistenza sanitaria e che però hanno difficoltà a curarsi per problemi di reddito sono rappresentativi di quel 15% di over 65 in povertà di cui faceva riferimento il governatore De Luca la fascia over 65 colpita e titolare di pensione al di sotto degli 800 euro al mese la regione annuncia iniziative straordinarie a sostegno delle componenti sociali deboli e sempre per la sanità di taglio basso pronto soccorso marcia contro i disagi ma i pazienti in barella nei corridoi il consigliere comunale di Forza Italia chiede al sindaco la convocazione della commissione politica e sociali questo per la sanità andiamo avanti restiamo sul mattino di Salerno andiamo nelle pagine dedicate alle notizie della provincia sulla pagina dedicata sulla pagina del territorio dell'agronocerino sarnese di Cava dei Tirreni vediamo che apre con il titolo i giudici riportano la vergine in convento fra Giggino mi ritiro la statua acquistata dalla confraternita era stata trasferita dopo l'addio dell'ex priore che ora medita di lasciare la chiesa statua della Madonna Contese il tribunale restituisce al convento di San Francesco la vergine acquistata dall'omonima confraternita e trasferita dopo il trasferimento di frate Luigi Petrone nella piccola cappella di Santa Maria degli Angeli di Via della Repubblica un post su Facebook condiviso da tanti il monumento della concezione passa abusivamente ai francescani cambiamo argomento andiamo avanti centrodestra i consiglieri conservalli barbuti il vero pericolo sono gli appalti questo per la politica a Cava dei Tirreni e ancora Pagani Candown nuova giunta dentro il PD due avvocati e La Fiore nel team Bottone a Scafati invece spaccio con i Vesuviani con Dannebis per i pusher Angri il comune si riprende 14 beni confiscati start sgomberi dalla casa dei Fontanella e ancora infine sempre di taglio basso un orto dedicato a Nappo nel terreno del clan Galass restiamo a Scafati torniamo a Scafati scusate questa è la pagina della Gronocerino Sarnese mentre per quanto riguarda invece la pagina della parte più a sud della provincia di Salerno parliamo della Piana del Sele e del Vallo di Diano vediamo quali sono i titoli si apre con un articolo dedicato a Dieboli vediamo furto e minacce preso il fratello di Maiale ma lo sai chi sono io Cosimo arrestato all'Alba dopo la denuncia di un commerciante taglieggiato ai domiciliari il genero denunciati due complici contestata l'aggravante del metodo camorristico Battipaglia cura riequilibrio più entrate al comune mentre si risanano le finanze dell'ente sul fronte di Alba arriva uno spiraglio anche se con ritardo accreditati gli stipendi a Eboli parcheggi al Palasele tangenti sugli spazi parcheggi al Palasele e all'inchiesta dei carabinieri spuntano storie paradossali al Palasele mi chiesero 180 euro per vendere panini ad un concerto musicale questo è il racconto uno dei racconti di un ambulante di spalla ancora Battipaglia lavoro nero blitz e multe da 60 mila euro in due aziende per le notizie di taglio basso Agropoli Cilentana al buio il comune le luci le mettiamo noi l'amministrazione si sostituisce alla provincia in adempiente dopo le proteste degli automobilisti e per la sanità a Polla l'ospedale Curto decolla servizio oncologico e TAC il direttore sanitario Mandia passi avanti in un momento di crisi per la sanità italiana in corso trattative importanti con l'ASL a distanza di diversi anni il Vallo di Diano potrebbe riavere un servizio oncologico una notizia ribadita da politici e amministratori che non sarà più un annuncio almeno così si auspica questo perché è stato nominato un responsabile dopo il pensionamento del precedente Nesto Re Rossi del precedente responsabile Nesto Re Rossi il servizio era scomparso lo stesso Rossi aveva proposto di continuare il suo lavoro in modo volontario finché non fosse arrivato un sostituto una proposta però caduta al vuoto ora dopo diversi anni il ritorno dell'importante servizio in arrivo infatti una nuova TAC per l'ospedale Curto e lasciamo questa pagina andiamo ora avanti spostiamoci per il momento sul quotidiano le cronache vediamo quali sono le principali notizie innanzitutto torniamo a parlare del caso legato alle fonderie Pisano il comune vediamo che annuncia di volersi costituire parte civile al processo vediamo il comune si riserva di costituirsi parte civile udienza aggiornata al 9 ottobre ci sono delle omesse notifiche presente anche il Codacons 40 cittadini chiedono il risarcimento d'anni ancora a Salerno di spalla porta ovest per De Rosa ha concesso il rito abbreviato mentre a centro pagina il fatto di Ele a gennaio prende il via il processo d'appello a Salerno l'attore travolse e uccise l'area di Lillo condannato a 7 anni e 8 mesi in primo grado e poi il caso deteneva materiale pedopornografico un ventenne rischia il processo ad incastrarlo un guasto al pc chiudiamo questa pagina restiamo sul quotidiano le cronache per andare nella provincia di Salerno nella parte sud della provincia di Salerno vediamo innanzitutto a Eboli quali sono le principali notizie dove troviamo anche notizie che interessano il Vallo di Diano innanzitutto però la notizia di apertura riguarda proprio Eboli da boss della Piana al ladro di spiccioli presi per furto Cosimo Maiale e suo genero aggravante del metodo mafioso al fratello dell'ex boss Giovanni Maiale le altre notizie a Teggiano notizia di cronaca vendemmia insanguinata operaio si regita un braccio disperato tentativo per salvargli l'arto una giornata di lavoro ma anche storicamente di festa e di allegria come sempre l'occasione della vendemmia si è invece trasformata in un dramma dopo essersi consumata una tragedia si è verificato a Teggiano nel corso del pomeriggio di ieri durante le fasi di lavoro di una vendemmia infatti un 66enne è stato vittima di un incidente in seguito al quale si è reciso un braccio al momento sono ancora in corso di verifiche attente da parte dei militari per capire l'esatta dinamica dell'incidente di taglio basso Prignano-Cilento strada vicida impatto violento allo svincolo per la diga lento feriti gli occupanti delle vetture mentre a Buonabitacolo ancora una nuova iniziativa del forum dei giovani Viviamo il territorio evento del forum per i giovani della provincia di Salerno due giorni incentrati sui temi di legalità ambiente e turismo tutto predisposto per Viviamo il territorio evento indirizzato ai giovani della provincia si terrà sabato 6 e domenica 7 ottobre legalità ambiente e turismo saranno i fili conduttori di un momento creato per far intervenire più giovani su esigenze e dinamiche del territorio questo per le pagine di Eboli restiamo sulle notizie dedicate alla provincia di Salerno andiamo avanti andiamo a sud di Salerno anche qui si parla dell'ospedale Luigi Curto di Polla e del prossimo arrivo di una nuova attack vediamo ospedale Curto arriva all'attack e una delle prospettive per il nostro comio del Vallo di Diano vocato all'emergenza nonostante un periodo di grandi difficoltà nella sanità nazionale per l'ospedale di Polla si preannuncia un momento di grandi novità la nomina di un nuovo responsabile ha rilanciato il servizio di oncologia nel Vallo di Diano sono già in corso trattative con l'ASL per organizzare al meglio il servizio il direttore Mandia stiamo lavorando senza sosta per avviare la nuova attack e così dare un servizio agli utenti andiamo in alto a Scea Franarizzi con ripristino della statale nel 2019 l'annuncio entusiasta è arrivato direttamente dal sindaco D'Angiolillo ad Agropoli invece tentato omicidio di Florinci Cantalupo il 7 novembre prima udienza d'appello slitta l'udienza per Antonello D'Ambrosio e Giovanni Aluotto processo d'appello gli imputati difesi dagli avvocati Michele Sarno e Antonello Cammarano a Capaccio Pestum invece spaccatura in maggioranza ora si inserisce l'opposizione in aiuto del sindaco Palumbo chiudiamo questa pagina chiudiamo il quotidiano le cronache torniamo sul mattino per andare nella pagina dedicata alla cultura dove si parla della visita della regione Campania ad Assisi una fosta delegazione regionale oggi consegnerà l'olio a San Francesco d'Assisi come abbiamo detto anche nella prima parte infatti la regione Campania quella scelta per la consegna dell'olio e vediamo noi dalla Campania per San Francesco emozione profonda oggi ad Assisi la cerimonia della donazione dell'olio per la lampada del santo presieduta dal cardinale di Napoli Sepe nella basilica con il premier Conte ci saranno il governatore i sindaci della regione 10.000 pellegrini da tutte le diocesi chiudiamo questa pagina ora andiamo sulla pagina sportiva parliamo del Napoli della sua vittoria contro il Liverpool che porta la squadra di Ancelotti in testa alla classifica del girone un girone duro per gli azzurri vediamo Napoli di carattere successo della svolta Ancelotti esalta la gara degli azzurri mai perso il controllo del match questa vittoria ci aiuta mentalmente siamo in piena corsa per la qualificazione ho fatto giocare Maximovic per frenare la pressione del Liverpool e liberare Mario Ruide Laurenti se esulta su Twitter grande vittoria su grande squadra Carlo Degno della sua fama e di taglio basso ancora sicurezza Koulibaly dobbiamo credere in noi stessi difesa azzurra ancora imbattuta dopo le prime due gare del girone di Champions e con questa pagina chiudiamo la nostra rassegna stampa io vi ricordo l'appuntamento alle 13.45 con il nostro TG grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri